Tutti assolti in primo grado e quattro imputati per il quarto processo per i morti e malati di amianto di Montefibre. Le motivazioni della sentenza, re giudice Donatella Banci Buonamici, sono state depositate in questi giorni e l'intenzione della procura è di ricorrere in appello. Nelle motivazioni infatti si riscontra un errore dal momento che al posto del nome degli imputati sono stati indicati nel documento quelli delle numerose parti civili e sarà probabilmente uno dei punti sui quali si baserà il ricorso del sostituto procuratore Nicola Mezzina che da anni coordina le indagini sui morti e malati di amianto tra i lavoratori dell'ex stabilimento verbanese e i loro familiari. Una battaglia al fianco delle vittime che a seconda dei casi ha portato ad assoluzione e condanna in diversi gradi di giudizio. Tra l'altro sempre nella sentenza risultano assolti due imputati che nel frattempo sono deceduti. Si è via via sottigliata negli anni a causa del passare del tempo la lista degli imputati tra ex componenti del CDA e dirigente di Montefibre, i fatti contestati risalgono infatti agli anni 70-80. Molti degli ex lavoratori delle Montefibre hanno sviluppato negli anni le malattie tipiche dell'esposizione alle fibre di amianto, asbestosi, tumore del polmone, mesotelioma pleurico, tumore della vescica e placche pleuriche.